Roma, si accende il campionato primavera. Al Tre Fontane va in cena Roma-Inter, l'anticipo della nona giornata. Una super sfida tra le società giovanili più vincenti degli ultimi anni che, per la prima volta, si trovano a giocare una contro l'altra nel girone unico. Appuntamento fissato alle 14.30 quando l'arbitro Matteo Proietti della sezione di Terni, decreterà all'inizio del Big Mac. Il rientro di Emerson Palmieri, il Tre Fontane, richiusa parentesi tonda a braccia Emerson Palmieri che non scende in campo in una gara ufficiale da Roma-Genoa del 28 maggio scorso, dall'addio al calcio di Totti che coincise proprio con il grave infortunio al legamento crociato. È la prova generale prima del rientro a pieno regime con la prima squadra di Eusebio Di Francesco. La Baby Roma rincorre l'Inter in classifica. Il Big Mac arriva al termine della lunga sosta. Una vittoria stavolta serve come il pane per cancellare una mini-crisi di risultati e impedire ai rivali di prendersi il trono del campionato. Formazioni ufficiali. Roma, 4 marzo 3. Greco, Boua, Ciavattini, Carignalutti, Emerson Palmieri, Riccardi, Marcucci, Valea U, Kappa, Celar, Kebacoli. Adisp. Zamarion, Dialoba, Castrati, Semeraro, Meadovs, Besuigen, Petrungaro, Sdaigui, Antonucci, Masangu, Petruccelli, Pezzella. Al. Alberto De Rossi. Inter. 4 marzo il primo febbraio. Chiusa parentesi tonda. Pissardo, Valietti, Bettella, Lombardoni, Sala, Gavioli, Rada, Danso, Zaniolo, Muton. Colidio. Adisp. Dechic, Zappa, Nolan, Corrado, Schirò, Brignoli, Visconi, Rovel, Merola, Belcheir, Ogaard. Al. Stefano Vecchi.